Bene ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, mi sentite un po' senza voce perché di nuovo ho un po' difficoltà a parlare, facciamo comunque questo video anche se sono in viaggio, domani dopo domani sarò a Rimini per l'IT Forum in Italia e sono molto contento anche perché nella giornata proprio di domani farò anche uno speech con il broker XTB e quindi faremo un dibattito e parleremo anche di criptovalute all'IT Forum dando risposta magari alle domande, insomma è una cosa molto bella, io sono anche molto affezionato a questa manifestazione perché da quando ero studioso di trading e quindi i primi passi andavo sempre all'IT Forum a prendere le informazioni, leggere i libri e guardare i trader che erano più avanti di me quindi molto contento domani di partecipare all'IT Forum, parliamo però di mercati proprio in questo video andando ad analizzare un po' di questioni, questo per quanto riguarda il bitcoin che è su time frame settimanale ragazzi, giusto per farvi vedere la fase di ribasso che dura praticamente da due mesi ma ci sono anche delle notizie riguardanti BNB che fa un timido rimbalzino, è ancora il rimbalzo del gatto morto quindi manca un po' la creazione di una barra di congestione vi faccio capire in questo video anche come potrebbe in effetti da qui iniziare un nuovo movimento che non appartiene a questa fase ribassista stessa identica cosa anche per quanto riguarda Matic che rimbalza in maniera forse un po' più vigorosa di BNB perché aveva fatto una shadow ribassista estremamente potente nuovo ciclo annuale sapete che lo stiamo attendendo iniziata qui, non iniziata qui, è iniziato un nuovo trimestrale aggiorniamo quello che è stato il video della scorsa settimana parlando anche di queste cose qui ma prima di ogni cosa ragazzi andiamo a vedere quelli che sono i dati macro, i dati macro che sono usciti ieri sono una IPC in caso di infrazione degli Stati Uniti inferiore alle attese però non così tanto da dare uno sprint elevato al mercato seppur ragazzi Nasdaq 100 è in una fase iper rialzista estremamente estesa e si avvicina ad un livello molto importante che è questa zona qui alla fine di questo video infatti vi dirò anche una possibilità da tenere estremamente a mente proprio per le criptovalute che riguarda questa fase di giugno quindi da metà giugno in poi come ce l'avevamo detti per quanto riguarda le cripto in generale non solo bitcoin fino almeno a metà di luglio quindi quest'aria estremamente delicata da andare a vedere ne parliamo però alla fine del video quindi tasso di inflazione che è inferiore alle attese ma non è così tanto inferiore seppur comunque rispetto al precedente è abbastanza sceso c'è anche quello mensile che è inferiore alle attese quindi si evidenzia che il trend dell'inflazione continuerà a decrescere probabilmente nel corso degli anni ancora però alta ragazzi perché il 4% resta comunque un valore al di sopra di quelli che sono gli obiettivi della Fed che sono intorno al 2% è probabile che questo 4 diventi un 2% entro la fine dell'anno difficile che arriviamo entro l'anno al 2% ma magari il 3-2-5 sicuramente può essere raggiunto con tranquillità per quanto riguarda invece la giornata di oggi c'è la decisione del PONC e sui tassi di interesse che come vedete sono previsti a questo punto senza cambiamenti anche infatti il famoso grafico che ormai andiamo a guardare sempre relativo alla probabilità che i tassi di interesse vengano alzati o meno indica un 94% che non verranno rialzati in questo caso contro le mie stime io avrei dato l'ultimo spuntone ma in realtà secondo me i mercati hanno scontato poi questo tasso di inflazione inferiore alle attese dicendo che la Fed non alzerà i tassi di interesse è possibile quindi a questo punto che la Fed faccia pausa e verifichi quelli che sono le condizioni del mercato per quanto riguarda i prossimi mesi e poi decida se continuare questa sua ristretta monetaria quindi ristretta monetaria o meno c'è da dire anche un'altra cosa ragazzi i tassi di interesse della Fed dall'inizio dell'anno più o meno anche da novembre scorso erano attesi tra il 5,25 e il 5,50 entro maggio-giugno così è stato un orologio svizzero perché vedete che queste cose qui sono estremamente lineari quindi la macroeconomia in questo caso funziona con delle politiche che sono estremamente lineari quindi dei calcoli che hanno degli impatti statisticamente più prevedibili è ovvio che qui in questi tipi di analisi non è mai previsto per esempio un evento straordinario come potrebbe essere non so una purtroppo magari uno scopio di un'altra guerra oppure una crisi petrolifera insomma cose del genere quelli non sono previsti però questo tipo di diciamo di tutte le informazioni che erano previste i tempi quando la Fed ha iniziato la fase di stretta monetaria sono stati rispettati giovedì poi abbiamo comunque la richiesta di sussidi di disoccupazione per gli USA la decisione sul tasso dell'Europa che continuerà a salire dello 0,25 quindi seguirà perfettamente probabilmente la questione degli Stati Uniti l'IPC europea invece è ancora molto alta però inizia a ridursi in maniera più consistente quindi l'attesa è con un tasso di inflazione che si riduce addirittura di un punto percentuale questo per quanto riguarda tutte le questioni legate ai dati io sarei molto attento a domani alla decisione del FONC non credo che voglia cambiare quello che i mercati si attendono e quindi far crescere un po' i mercati però nella conferenza probabilmente quello che dirà ragazzi io già più o meno un'idea me la sono fatta dirà che al momento la situazione così va bene però si terranno le cartucce di un eventuale rialzo nei prossimi mesi qualora l'inflazione non segua il corso naturale oppure ci siano delle nuove fiammate relative all'inflazione eccetera quindi questo credo che sarà quello che Powell andrà a dire un po' lo standard di queste questioni diciamo che una volta che siamo in una fase del genere è un po' abbastanza semplice comprendere queste cose allora vi faccio vedere questo grafico l'avevamo visto insieme guardate l'aria di debolezza come era stata ampiamente segnata perché fa parte della chiusura del ciclo semestrale di Bitcoin due mesi di ribasso due mesi di trend ribassista è un ribasso non molto pronunciato però c'è a dire la verità ragazzi io di fasi di respiro di questa levatura su trend come le criptovalute ci metterei la firma come si suol dire perché in queste fasi qui ovviamente i mercati possono anche impazzire e quindi fare delle estensioni non è detto che questa fase sia finita come vedete io qui ho disegnato una area di timing che un po' spoiler a quello che vi dico alla fine del video relativamente al grafico che vorrei guardare con voi quello appunto di questa zona sul Nasdaq 100 però vedete qui in questa zona qui da giugno barra luglio siamo in un limbo quindi la cosiddetta terra di nessuno qui ogni minimo è buono per chiudere il ciclo semestrale e soprattutto sarà il mercato a darci una conferma di questa cosa quindi a livello temporale secondo me da questa settimana in poi quindi dal 15 giugno in poi come ce l'avevamo detti siamo nella terra di nessuno cioè fino almeno un altro mese e in questo significa in maniera molto schietta che da qui il mercato può riprendere tranquillamente una nuova fase rialzista oppure può fare il minimo importante per riprendere la fase rialzista oppure può cincischiare appunto e aspettare il tempo giusto per una ripresa allora lo so sono entrambe cioè tutte le soluzioni possibili proprio per questo vi dico è la terra di nessuno però c'è da dire che in questo momento a livello strategico la strategia più corretta sarebbe quella di attendere la fase long perché in questo momento la probabilità che il movimento ribassista sia molto esteso in termini di percentuali è più bassa rispetto al fatto che da qui si possa avere una ripresa che magari può tentare di superare anche i massimi fatti ad aprile quindi teoricamente insomma se da qui ragazzi noi iniziamo una ripresa magari andiamo a fare anche questa fase qui è più estesa magari di un eventuale ribasso anche di questo tipo per poi andare a riniziare la fase quindi come vedete seppur nella terra di nessuno a livello ciclico il mercato può decidere di continuare un po' questa fase oppure può decidere di riprendersi subito a livello di attesa quale operazione andiamo ad attendere le operazioni long perché in questa fase attendere un'operazione short è a livello di probabilità meno proficua quindi è una questione legata solo alla probabilità quindi ci importa di meno mentre in questa fase era più probabile una fase di debolezza ragazzi quindi in questa fase qui la fase di debolezza era più probabile per la chiusura ciclica del semestrale adesso da qui in poi è meno probabile che questo avvenga e in questo caso quindi io mi giocherei la carta della tentare di prendere di entrare sui movimenti che possono avere un impatto tra le altre cose il mercato ha disegnato anche una notevole trendline estremamente simpatica perché è facile anche da visionare quindi potrebbe per esempio lateralizzare qui e poi breccare questa trendline un break di questa trendline sancirebbe la probabilità maggiore che stia iniziando una nuova struttura ciclica quindi anche a livello di operativo quindi a livello di trading è un po' più semplice questa cosa qui lo sciacquone invece quindi l'ipotesi che il mercato faccia l'ultimo sciacquone c'è ancora ve lo dico in maniera molto netta ne parliamo alla fine del video quando vi mostro il grafico su Nasdaq volevo poi andare a ragionare su Matic e BNB perché anche loro hanno questa struttura adesso vi faccio capire un concetto allora Matic può avere iniziato un nuovo ciclo annuale anche in questa zona insieme a BNB la M che vedete disegnata è assolutamente perfetta nella sua struttura e quindi ha una struttura ciclica abbastanza insomma comune la famosa M detto questo però ragazzi i tempi per Matic con un minimo seppur profondo fatto a 357 giorni non sono tali da farci dire che la probabilità è molto alta che qui inizi un nuovo ciclo annuale mentre l'ipotesi che vi dicevo di attesa con una struttura magari di lingua di Bayer o comunque di conclusione di questo movimento io la terrei a mente cioè per esempio anche un mensile che parta proprio da qui e vada per esempio in questa zona a chiudere 390 giorni cioè questa struttura come vi dicevo nell'ultimo video io la vedrei quindi solo per trader cioè soprattutto perché non è bitcoin in questo momento oserei dire ragazzi attendere o se siete trader magari tradare long questa fase secondo me è fondamentale per evitare magari che il mercato possa aver fatto non so un troncamento di questo ciclo e poi partire prima altrimenti questa zona che vi ho delineato fino a più o meno alla metà di luglio potrebbe essere un ciclo mensile che chiude i giochi su Matic e quindi magari ha proprio in questa fase una ripresa oggettiva quella del mensile per poi fare uno sciacquone così e magari una fase di bassista finale ora ve l'ho fatta anche pronunciata perché a volte le criptovalute non vanno a toccare la shadow che per esempio Matic ha fatto nella giornata del sabato intanto era sabato e questo va compreso ragazzi adesso vi sposto i livelli così guardate anche la shadow di prima altrimenti non si vede e questa shadow qui e questa qui potrebbe essere non toccata più questo è possibile perché non è obbligatorio anche in un mensile che fa parte del nuovo annuale nel lato delle criptovalute toccare questo nuovo minimo in quanto sono cripto sono dovute a fasi di dump pronunciato per via magari di questioni tecniche insomma in questo caso la paura della SEC che aveva indicato Matic Robinhood che ha tolto Matic dal trading e poi è fatto di sabato ragazzi quindi una valenza veramente ridicola di questa shadow però il mercato potrebbe quindi Matic potrebbe fare una cosa del genere e quindi andare a fare il cosiddetto pattern caimi io l'ho sempre delineato così lo spiego nel mio corso basic questo tipo di pattern era giusto per spiegarvelo anche qui e non approfondito ovviamente che non riusciamo però un pattern che non va a ritracciare esattamente la shadow ma che comunque ritraccia in close magari il minimo precedente quindi siccome la close del minimo è stata molto alta 061 la probabilità che magari vada a fare una close inferiore così tipo c'è e quindi questo si poi se andate a vedere la shadow magari la shadow è più pronunciata quindi questo giusto per spiegarvi la questione legata proprio a Matic ragazzi e adesso mi rimetto tutti i disegnini a posto eccolo qua fatto allora passiamo anche a vedere BNB stessa identica situazione quindi anche lì si sta delineando secondo me uno dei miei pattern preferiti che ho scherzosamente indicato come pattern che mi proprio per la la questione del del fatto che è un po' diverso dall'1.2.3 di Joe Rosso seppur comunque prende spunto un omaggio diciamo a Joe Rosso questo trader famosissimo chi di voi lo conosce allora questa fase qui è una fotocopia di quella di Matic e anche in questo caso vedete c'è la possibilità che anche BNB vada ad allungare magari questa fase qui di almeno un mensile e quindi vada a riportarsi con una fase rialzista iniziale che poi magari mi fa un trading range con un minimo non in shadow anche se qui la shadow di BNB non è pronunciata come quella di Matic è fatta sempre di lunedì quindi ha più valenza rispetto a quella di Matic quindi potrebbe anche decidere proprio di fare un minimo inferiore a questo livello perché è più vicina quella di Matic è più pronunciata c'è da dire che questa struttura ciclica di Matic di scusate BNB ha un massimo nella prima parte del ciclo annuale questo impone molta attenzione perché a differenza di Matic che aveva un massimo qui nella seconda parte qui abbiamo un massimo nella prima parte questo impone di fare molta attenzione perché la possibilità che si vada sotto il minimo del ciclo annuale c'è ancora e quindi bisogna attenzionare questa cosa se poi andiamo a mettere insieme i giochi in pratica sarebbe un biannuale ribassista o comunque con una seconda parte estremamente in barra di congestione quindi anche qui magari l'entità del ribassino è stata estremamente pronunciata seppur comunque non era cosa da niente perché rispetto ai massimi stiamo parlando sempre di un meno 72 certo non è un meno 90 delle altre cripto però va tenuto conto quindi anche qui attesa da parte mia per entrare su BNB e Matic sarà il pattern Kaimi giusto per spiegarvelo in maniera simpatica quello che vi ho fatto vedere cioè il mercato che mi va a disegnare una lingua in questo modo e poi decide di rientrare qui si può fare diverse strategie che spiego appunto nel corso tra cui lo scaling in per esempio cioè andare a fare dei buy scaglionati per esempio in questa fascia di prezzo dove porta tutto questo discorso cioè dove arriviamo con la famosa lingua che vi sto dicendo che probabilmente potrebbero fare questi due strumenti e quindi anche molte altcoin tra cui anche TH arriviamo ad una data estremamente importante cioè la data della metà di luglio metà 20 di luglio data che coincide probabilmente con la chiusura anche del ciclo trimestrale di Nasdaq che è estremamente esteso e che quindi la probabilità che Nasdaq vada da qui a iniziare una fase di riposo laterale ma anche di ribasso come ha fatto in questo punto c'è ed è anche rilevante se in questo caso quindi poi le criptosi vanno a correlare a quello che è Nasdaq allora capite bene il significato di questa cosa cioè sarà un mese di fuoco perché da 15 di giugno che eravamo qui dobbiamo attendere quello che succede fino al 12 in questo caso barra 15 di luglio sarà un mese importantissimo alla fine probabilmente avremo una classico laterale e io spero che le cripto e anche Nasdaq perdano più tempo possibile ve lo dico in maniera tecnica cioè non facciano nulla ragazzi stiano qui nel limbo in questione anche bitcoin è in questo limbo anche le altcoin sono in questo limbo da qui al 15 di giugno di luglio molta attenzione ragazzi a questa fase è la fase dove si possono disegnare minimi importanti è la fase da tenere a mente anche per costruire eventualmente delle posizioni che mirano a fare una semplice cosa non andare in Burran a vincere il superanalotto ma a cavalcare la ripresa per esempio di questo nuovo ciclo annuale ciclo annuale arriverà ragazzi come sempre lo fa quello che è il problema nostro dei trader e degli analisti ciclici è capire da dove parte ma non possiamo sapere dove andrà a fare il minimo il mercato quindi dobbiamo agire in queste fasi con le tecniche da trading ed è il modo migliore di trattare queste fasi quindi la ciclica ha fatto il suo ci ha indicato la fase temporale adesso sta all'analisi tecnica e alla strategia alla formazione del trader per salire bene su questo nuovo ciclo annuale che per me potrebbe essere molto molto importante va bene per oggi è tutto ragazzi noi ci vediamo a Rimini con chi è di voi speriamo mi sia ritornata la voce ciao a Rimini